Oggi siamo in grado di dire per ogni tipologia di lavoro qual è il rischio di riapertura. Quindi andiamo da un rischio molto basso, che è quello della silvicoltura, dell'edilizia e anche del manifatturiero, a un rischio invece più consistente quando parliamo di attività produttive di tipo turistico. Si avvicina la cosiddetta fase 2, quella della ripartenza, sempre più urgente per far fronte alla crisi economica. Si parla molto di questa fase 2, ma diciamo che in epidemiologia non è che esistono queste differenziazioni così nette nelle fasi. L'epidemia ha una sua continuità e forse la fase è differente più nell'approccio che nella circolazione del virus, che spesso segue un pochettino quello che è l'andamento del cosiddetto contatto sociale. Il lockdown finora ha evitato che la situazione precipitasse in modo irrimediabile. Questa non può essere però l'unica soluzione per lasciarci il coronavirus alle spalle. Sicuramente questa non può essere l'unica forma di antagonismo alla circolazione del virus. Abbiamo visto appunto in CTS che l'approccio, soprattutto nella fase successiva, che riguarderà i prossimi giorni, dovrà basarsi su delle garanzie da parte delle regioni. Le regioni dovranno garantire tre cose fondamentali. La gestione, che purtroppo si prevede ancora lunga come circolazione virale, di questa patologia in percorsi completamente separati. Cioè avere ospedali o padiglioni completamente isolati da tutte le altre patologie. Questo per due motivi. Per gestire in modo completamente separato e per prevedere che quelle persone che lavorano, i sanitari, gli operatori che lavorano in quelle strutture, siano super protette. Questo è fondamentale. Quindi garantire tutta... E ridurre quindi la possibilità che negli accessi, ad esempio, misti, come nei pronto soccorso, si possano creare i cosiddetti focolai ospedalieri, che sono quelli che oggi rappresentano una grande criticità. Quindi sicuramente la distinzione del percorso assistenziale è una strategia importante. Per questo nel prossimo decreto il governo stabilirà dei fondi, ma occorre che anche le regioni si coordinino con questi progetti. La strategia fondamentale è la gestione delle strutture residenziali e dei focolai domestici. Quindi lì sarà fondamentale l'intercettazione precoce di questi pazienti, la gestione, diciamo, precoce delle complicanze. E anche l'Abruzzo si prepara a ripartire. Una ripartenza che potrebbe essere a doppia velocità, differenziata tra le aree interne e quelle costiere. Anche in Abruzzo c'è una differenza molto, molto netta fra le zone costiere e le zone interne. Il piano Covid dovrebbe essere coerente con la prevalenza della malattia e con la previsione della persistenza della malattia. Altrimenti qual è il rischio? Che noi, se non separiamo i percorsi, non riusciamo a riprendere le attività assistenziali fondamentali. L'Abruzzo deve ripartire da una selezione meritocratica delle competenze tecniche. Abbiamo bisogno di ricreare un gruppo di lavoro che possa guardare in chiave moderna alla sanità abruzzese e al sistema produttivo. Quindi sicuramente questo è lo sforzo maggiore che dovremo fare nei prossimi mesi. Grazie. Grazie. Grazie.